Vengo dall'Afghanistan 11 mesi fa per salvare me. Abbiamo proposto a URNHCR InterSos un progetto di avviamento di un laboratorio di pasticceria multietnica perché a Roma non esiste. Queste signore di cui molte hanno delle fragilità molto importanti perché il progetto del laboratorio di pasticceria è riservato a donne fragili. L'abbiamo avuta proprio come dare uno strumento economico maggiore perché queste donne vivono all'interno di famiglie piuttosto in difficoltà e non hanno nessuna risorsa economica ma sono bravissime a fare i dolci. Il nome del mio paese è Bangladesh. Io sto in Italia otto anni fa però io ho venuto qui per vivere con i miei bambini. Allora io ho venuto qui, il Gustamundo, per fare un corso di pasticceria perché mi piace tanto questo corso cucinare qualcosa mi piace tanto. Spero in futuro io lavorare in questo pasticceria. Sì. Sì. Allora io ho venuto dal Sudè e sono in Italia da 5 anni. del scabata da guerra. Il dolce si chiama casa di cattai. Si ingredienti sacca di frutti. I dolci erano buonissimi, tutti molto buoni, alcuni con dei sapori assolutamente mai assaggiati, inaspettati, inattesi, una vera sorpresa. Grazie a tutti.